Da consiglieri di maggioranza, da partito che è nella maggioranza del governo della città di Pescara, voi criticate la politica delle ZTL, soprattutto del sabato pomeriggio in alcune vie centrali di Pescara che secondo voi creerebbero grossi problemi i commercianti? Ma allora, io non la porrei sul discorso critica, nel senso che noi la situazione attuale potrebbe essere critica, ma la situazione da qui, mi auguro breve, sicuramente potrebbe migliorare. Noi abbiamo notato che comunque il sindaco e la giunta hanno adottato un provvedimento molto importante alla fine di luglio del 2019, cioè hanno allungato un po' la ZTL 3 ambientale, cioè quella su via Regina Margherita dalle ore 16 alle ore 17, riteniamo però purtroppo che comunque il centro cittadino, soprattutto il sabato, rimane una landa deserta, desolata e questo è un documento totale, ovviamente manco a dirlo, del commercio cittadino. Pertanto noi riteniamo che si debba e si possa fare uno sforzo in più, la ZTL 3 ambientale che è posta all'inizio di via Regina Margherita debba essere abolita, debba essere tolta e dare la possibilità quindi sia ai cittadini di pescare non solo, ma a chi viene da fuori di arrivare proprio nel centro, nel cuore cittadino e animarlo sicuramente molto di più e questo darebbe sicuramente una grandissima boccata di ossigeno al commercio tutto che è veramente grida di dolore. Noi abbiamo l'assessore Alfredo Cremonese, credo che questa è una iniziativa, una proposta nostra di Fratelli d'Italia, del gruppo di Fratelli d'Italia e credo che l'assessore la debba portare avanti, la posta la debba portare avanti perché è una delega sua e credo che l'assessore, anzi ne sono certo che il commercio ci tiene e quindi questa battaglia e questa iniziativa penso che debba essere sicuramente appoggiata.